Acea, come dico sempre, è un'azienda strutturalmente circolare perché gestisce business che sono strutturalmente circolari a partire dal ciclo idrico, dal trattamento rifiuti, tutta la parte della distribuzione elettrica, compresa la mobilità elettrica, la generazione da fonti rinnovabili, per cui noi siamo strutturalmente circolari e strutturalmente sostenibili e quindi stiamo adesso chiaramente lavorando molto per sviluppare il nostro business in questa direzione. Noi abbiamo già avuto una crescita importante di tutti i nostri business negli ultimi anni e anche quest'anno abbiamo anche dato una guidance ai mercati di una crescita superiore all'8% di EBITDA rispetto all'anno precedente e anche il nostro piano è in linea con questi livelli di crescita. La crescita è fondamentalmente trainata da questi business circolari e sostenibili, in particolare il trattamento rifiuti, sviluppo di energie rinnovabili e il ciclo idrico. Lo Smart Comp è un progetto che abbiamo già presentato e che è già uno strumento commerciale, perché praticamente diciamo che è un po' la nostra invenzione del rifiuto a chilometri zero, nel senso che noi installiamo dei piccoli impianti per il trattamento dell'organico e per la produzione del compost, lì dove il rifiuto viene prodotto, quindi senza la necessità poi di dover trasportare il rifiuto con tutte le emissioni che sono legate al trasporto del rifiuto, quindi è un progetto che è già in una forma di sviluppo. Mentre il Gas Inform è un nuovo progetto, è una sperimentazione che stiamo realizzando, che stiamo per andare a realizzare ed è fondamentalmente legata a una cosa che va in quello che noi chiamiamo il waste to chemicals, cioè il riciclo di rifiuti per andare a produrre dei prodotti, delle molecole che poi sono dei nuovi carburanti, il tutto a emissioni zero. Noi siamo il primo operatore nazionale a livello idrico, con tutte le nostre società forniamo il servizio a circa 9 milioni di cittadini, quindi è chiaro che per noi quello è il business fondamentale, il business più importante per noi. Lì stiamo investendo molto per il miglioramento della qualità del servizio, anche lì in ottica sostenibilità per la riduzione delle perdite e adesso è chiaro che stiamo anche lavorando per poter utilizzare sulle aree in cui noi operiamo, anche i fondi del PNRR, perché poi il servizio idrico è un servizio che ha un importante deficit di investimenti, per cui i fondi pubblici possono contribuire a migliorare la qualità dell'infrastruttura. Questo è uno strumento molto divertente, molto carino di comunicazione, è un robottino che è stato realizzato totalmente con materiali riciclati ed è uno strumento che il robottino di per sé è dotato di un'intelligenza, per cui è in grado di spiegare e di rispondere a domande su tutto quello che bisogna fare per riciclare al meglio i rifiuti. Grazie.